Ricordando le prime elezioni regionali di 50 anni fa, il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di una leale collaborazione tra Stato ed enti territoriali nella difficile fase di ripartenza. L'autonomia è il fondamento della democrazia, ma i conflitti istituzionali creano fratture e inefficienze. Rimarca il capo dello Stato avvertendo che per uscire dalla crisi economica e sociale l'Italia deve essere unita nel rispetto delle diverse pluralità. Il presidente del Consiglio Conte rassicura sulla tenuta del governo e dice di non sentirsi accerchiato dopo le contestazioni arrivate dall'interno della maggioranza sull'idea degli stati generali dell'economia. L'urgenza di agire, spiega Conte, non nasce da un capriccio ma dalla realtà che preme. Ma dopo Zingaretti il vice segretario Odem Orlando puntualizza che l'incontro con imprenditori e parti sociali va preparato e deciso insieme. Dall'opposizione la leader di Fratelli d'Italia Meloni attacca. Siamo stati ignorati e derisi dal governo. Il virus continua a correre velocemente nel mondo con quasi 7 milioni di contagi e oltre 400 mila morti. In Italia i dati migliorano di settimana in settimana, diminuisce il numero delle persone infette, ma l'epidemia non è ancora conclusa e restano alcuni focolai attivi. Per il vice ministro alla salute Sileri la fase acuta è stata superata e i numeri ancora alti della Lombardia sono da considerarsi fisiologici. Da settembre gli studenti torneranno nelle aule universitarie per garantire la sicurezza. Cambierà l'organizzazione, niente divisori in plexiglass, ha spiegato il ministro Manfredi, ma si ipotizza un allungamento dell'orario delle lezioni, un maggior numero di aule a disposizione. Allo studio del ministero anche la riduzione delle tasse e la possibilità di trasformare le lauree in lauree abilitanti, in modo che l'esame finale diventi anche esame di Stato per l'accesso alla professione. Gli Stati Uniti nuovamente in marcia contro il razzismo e la brutalità della polizia dopo l'uccisione dell'afroamericano George Floyd, imponente pacifica, la manifestazione di ieri a Washington, marce anche a New York, Chicago e San Francisco. L'onda lunga delle proteste è arrivata anche nel resto del mondo, toccando il Giappone, l'Australia e l'Europa. Manifestazioni numerose città italiane, da Bologna a Firenze, da Roma a Milano. Buongiorno, ben trovati a tutti voi dalle telegiornale della Sette e buona domenica. Cominciamo dal nuovo messaggio del Presidente della Repubblica, affinché la politica agisca insieme, senza divisioni, senza fratture, proprio per affrontare questa nuova fase così delicata e impegnativa, quella della ricostruzione dopo l'emergenza coronavirus. Mattarella ha parlato in occasione dei 50 anni delle prime elezioni regionali e ha sottolineato come l'autonomia delle regioni sia la base della democrazia. Stop ai conflitti. L'Italia, davanti ad una prova impegnativa, deve evitare sovrapposizioni tra istituzioni. Il capo dello Stato, Mattarella, celebra i 50 anni dalle prime elezioni regionali con un messaggio cucito su misura per la situazione di oggi, segnata durante la fase acuta dell'emergenza covid ed al rapporto difficile e conflittuale tra Stato centrale e regioni con scambi di accuse e scarica barile. La lotta alla pandemia, sottolinea Mattarella, ci ha posto di fronte a nuovi interrogativi su come rendere migliore il servizio ai cittadini ed evitare che conflitti e sovrapposizioni tra istituzioni possano creare inefficienze paralizzanti o aprire pericolose fratture nella società. Nuovo appello alla politica, tutti i livelli ad evitare divisioni nella difficile fase della ricostruzione dopo quello lanciato in vista del 2 giugno dal capo dello Stato. Perché se da una parte il Quirinale riconosce l'autonomia delle regioni come principio alle fondamenta della Costituzione democratica, dall'altra spiega che una sfida impegnativa come quella del coronavirus non può essere vinta dai singoli territori. Siamo chiamate ad una prova impegnativa. L'Italia ha le carte in regola per superarla, ma non vincerà da solo un territorio contro un altro non prevarrà un'istituzione a scapito di un'altra, ma solo la Repubblica nella sua unità. La gestione dell'emergenza del resto non è l'unico tema divisivo, resta infatti ancora da stabilire la data del voto regionale rinviato a causa del Covid, con i governatori di Veneto, Campania, Marche, Puglia e Liguria che premono perché si voti il prima possibile. Dopo aver spinto per luglio guardano alla prima settimana di settembre, non solo per incassare il dividendo dettato dalla visibilità nella fase di emergenza, ma anche per non impattare con l'avvio dell'anno scolastico ed evitare che una possibile nuova ondata del virus provochi un ulteriore rinvio delle urne. Ma sia la maggioranza che le opposizioni temono una campagna elettorale giocata in pieno agosto. Il punto di caduta al momento potrebbe essere la data del 20 e 21 settembre. Tema destinato a tornare in primo piano. Domani in aula alla Camera arriva il decreto elezioni. Il provvedimento rinvia in autunno le elezioni comunali e regionali, accorpando anche il referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari in un'unica tornata elettorale. E la prima reazione al messaggio, alle parole del Presidente della Repubblica Mattarella arrivano dal governatore del Veneto, Zaia. Penso che quella di Mattarella sia una bella dichiarazione, spero che qualcuno se la stampi e se la metta nel comodino, ha detto Zaia. Si ha visto e considerato che c'è ancora qualcuno che non ha capito che l'autonomia non è una sottrazione di potere come la interpretano a Roma alcuni. Per Zaia ad alcuni viene l'orticaria quando gli parli di autonomia, ma l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. Queste dunque le parole del governatore Zaia. Ma torniamo sulle tensioni tra il Partito Democratico e il Presidente del Consiglio, che è stato accusato di eccessivo protagonismo nell'organizzare gli stati generali dell'economia. Conte rivendica la sua iniziativa, ma comunque stempera tutte le tensioni con il Partito Democratico, che comunque domani riunirà in videoconferenza la direzione nazionale. Conte poi ha rassicurato sulla tenuta del governo, sulla tenuta dell'esecutivo. Non mi sento accerchiato, ha detto questa mattina in una intervista al Corriere della Sera. Gli stati generali dunque si faranno, non c'è stato nessun attacco a Conte, dico nel leader del Partito Democratico, ma è un'iniziativa importante e deve essere preparata in modo adeguato. Archiviato a quantomeno declassata, polemica minore, la querelle sugli stati generali, appuntamento forse per il prossimo weekend, Giuseppe Conte torna a vestire i panni del leader mediatore, tra le componenti della sua eterogenea maggioranza, come ai primi di marzo. Quelli dei giorni difficili, delle scelte che hanno determinato il lockdown nel Paese. Non mi pare di essere accerchiato più di quanto lo fossi nella prima fase, è il commento del Premier. Sento dire in continuazione, Conte cade, ma come si vede, e si vedrà, non è così. E sulla scelta non condivisa con il PD, che domani mattina terrà in videoconferenza la sua direzione nazionale, Conte rivendica la sua iniziativa. Non è un capriccio, ma è la realtà che preme e aggiunge che le perplessità del PD sono rientrate. L'acqua sul fuoco, sempre sul Corriere della Sera, girando pagina, la butta il vice segretario Dem, Andrea Orlando. Non c'è alcun attacco politico a Conte, ma c'è la consapevolezza che non si può più sbagliare e quindi le regole del gioco vanno decise insieme. Insomma, tutto bene, gli stati generali si faranno, ma d'ora in poi bisogna camminare alla stessa velocità perché il tempo delle scelte difficili per l'esecutivo sta per arrivare. E per il Movimento 5 Stelle sono scelte di rimenti, come nel caso del MES, decisione che potrebbe essere foriera di sorprese per chi sta preparando altri stati generali, quelli che dovranno disegnare il nuovo leader politico. Alessandro Di Battista ha le carte in regola per diventare un protagonista della politica, un capo fuori dal governo, parole di Max Bugani, capo dello staff del sindaco di Roma Virginia Raggi, ma soprattutto uomo vicino a Davide Casaleggio. Bugani, nell'eroggiare il lavoro di Conte, non esclude l'ipotesi della nascita di un partito personale del Premier. Non mi stupirebbe, è il suo commento, è il miglior Premier degli ultimi 30 anni. A non pensarlo esattamente così è Giorgia Meloni, che ha sempre criticato aspramente il Premier, sia nella prima che nella seconda esperienza di governo. Siamo stati ignorati e derisi, attacca la leader di Fratelli d'Italia in un'intervista al quotidiano La Stampa. Litigano tra grillini, litigano con il PD, si scanano con Renzi. Si aprissero veramente a noi, lì dentro salterebbe tutto. E provocatoriamente invita il governo a una diretta streaming, come facevano un tempo i 5 Stelle, così che gli italiani possono vedere chi difende i loro interessi e chi no. Veniamo adesso alla situazione sanitaria. I casi di contagio sono in netto calo, ma l'epidemia non è conclusa, avvertono gli esperti. Ci sono delle regioni in cui i casi ormai sono a zero, sono circa 5 le regioni dove non ci sono casi, ma in altre regioni il virus continua a circolare, quindi l'obiettivo è quello di contenere assolutamente i focolai. Anche il Papa oggi nell'Angelus, rivolgendo una parola, una preghiera alla situazione in America Latina, dove l'emergenza sanitaria è molto forte in questo momento, ha detto di non cantare vittoria. Troppo presto. L'ultimo focolaio, il più recente, si è acceso qui all'IRCS San Raffaele Pisana di Roma. 31 casi positivi al Covid-19 tra pazienti e dipendenti. Se nel complesso l'Italia sta guarendo, con i casi in costante diminuzione, i focolai attivi continuano a destare preoccupazione, perché da lì si potrebbe riallargare il contagio. In tutto il paese, nella settimana tra il 25 e il 31 maggio, ne sono stati individuati 170, 117 in Lombardia, 16 in Emilia-Romagna, 15 in Piemonte. La maggioranza delle regioni ha avuto da zero a tre focolai. Una persona positiva ne infetta un'altra. Può avvenire in un luogo di lavoro, in un RSA. È così che si apre un focolaio, ma rispetto ai periodi iniziali dell'epidemia, ora il tracciamento dei casi è puntuale, così come l'isolamento dei contatti. Il dato, avvertono dalla cabina di regia del Ministero della Salute, dice comunque che l'attenzione va tenuta alta. Anche guardando l'indice R con T, usato per stimare la velocità del contagio, il miglioramento è evidente. La maggior parte delle regioni è a 0,5 e 1 è il valore soglia, oltre il quale il contagio potrebbe tornare a propagarsi a velocità più alta. La Lombardia resta la regione dove i dati migliorano più lentamente, da sola quasi due terzi dei focolai attivi a livello nazionale. E l'indice R con T è leggermente salito, 0,95 rispetto a 0,75 della settimana precedente. I casi comunque continuano a scendere nella regione, 142 nelle ultime 24 ore, contro gli oltre 400 di venerdì, 10 ricoveri in meno in terapia intensiva. Non vedo un problema a Lombardia, anzi vedo numeri in calo con terapie intensive vuote. L'Italia è aperta, i focolai possono essere ovunque e nel caso andranno prese misure di contenimento chirurgiche mirate, ha commentato il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, secondo cui si è ormai usciti dalla fase acuta, adesso c'è una fase di convivenza con Covid-19. Ovviamente molto dipende dal numero dei tamponi effettuati, 72 mila ieri a livello nazionale, 13 mila in Lombardia. Per valutare gli effetti degli spostamenti interregionali bisognerà attendere fine mese, avvertono gli epidemiologi, mentre già il 15 giugno i dati fotograferanno le conseguenze delle riaperture di maggio. Dopo la scuola, ieri il decreto legge è stato convertito in legge nell'ultimo giorno utile dall'aula della Camera con l'ostruzionismo delle opposizioni. C'è un altro nodo da affrontare riguardo alle università. Il Ministro Manfredi ha rassicurato che le elezioni da settembre torneranno ad essere in presenza, grazie ad un allungamento dell'orario delle elezioni e anche ad un maggior numero di aule a disposizione. L'Università non si è fermata e è riuscita a rispondere in maniera adeguata all'emergenza con lo stesso numero di esami e di laureati rispetto all'anno scorso. Ora l'obiettivo è quello di rientrare in aula in totale sicurezza, scongiurando il rischio di ogni possibile focolaio da coronavirus. Il Ministro dell'Università Gaetano Manfredi è cauto ma anche ottimista sul futuro degli Atenei italiani. Assicura una didattica in presenza che sarà integrata da una didattica online. Mi ha fatto riflettere, ha detto Manfredi, la decisione di Cambridge che il prossimo anno ha deciso di optare per una didattica interamente a distanza. Anche noi dovremo rispondere alle esigenze dei tanti giovani che non potranno frequentare le elezioni in aula. Il problema maggiore rimane quello del sovraffollamento. Si stanno valutando le misure per poter riprendere regolarmente le elezioni escludendo rigorosamente il ricorso ai pannelli in pexiclass. Possibilità considerata invece dal Ministro dell'Istruzione Azzolina. Per garantire la sicurezza, spiega il Ministro, si punta a ridurre le presenze attraverso l'allungamento dell'orario per le elezioni e prevedendo un maggior numero di aule. Ci sarà poi un intervento anche sulle tasse universitarie che saranno ridotte a seconda del reddito fino a 20.000 euro di Ise non si pagheranno mentre dai 20.000 ai 30.000 euro sono previsti sconti per quelle famiglie che hanno subito un calo improvviso nel reddito. Incrementate forse le borse di studio. All'ipotesi paventata di abolire gli esami di accesso alle professioni per evitare assembramenti, il Ministro ricorda che questo tipo di prova è prevista dalla Costituzione quindi non si può abolire. Manfredi anticipa che in alcuni casi l'esame di laurea potrà coincidere con l'abilitazione. Stiamo cercando di trasformare le lauree in lauree abilitanti in maniera tale che sia anche un esame di Stato per l'accesso alla professione. Si va in questa direzione per odontoiatria, farmacia e veterinaria. Per questo sarà presentato in Parlamento un disegno di legge. Il Ministro sottolinea anche la necessità di un maggior numero di laureati nelle discipline scientifiche. Ci sarà un piano di intervento in questa direzione anche per coinvolgere la componente femminile che in quegli ambiti è in netta minoranza. Ed infine la novità immediata dal mese di luglio arriva l'ok della seduta di laurea in presenza con pochi familiari e i distanziamenti giusti. La settimana che si apre potrà essere utile per capire quale risvolto prenderanno due questioni cruciali per il nostro paese. Saranno giorni decisivi all'Italia per dare vita alla new co-pubblica. Avrà 100 aerei con risorse umane proporzionate a questa dimensione ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli. C'è poi la questione Arcelor Mittal che ha presentato, come sapete, un nuovo piano industriale che però non trova d'accordo né il governo né i sindacati. I commissari straordinari entrano nello stabilimento Exilva di Taranto. Inizieranno domani un'ispezione di circa tre giorni insieme ai tecnici specializzati per verificare le condizioni della grande fabbrica. I sindacati hanno denunciato una situazione allo sbando con la produzione ridotta ai minimi storici che rischia di compromettere in maniera irreversibile gli impianti. Senza contare che, avvisano i rappresentanti dei lavoratori, Arcelor fa lavorare meno di 3.500 persone soglia minima di salvaguardia indicata dal prefetto di Taranto in piena emergenza Covid. I sindacati quindi accusano la multinazionale di gestire il siderurgico a marcia ridotta mantenendolo sul filo labile della sopravvivenza. In questo quadro generale le anticipazioni del segretario della FIMCISL Bentivogli sul piano industriale presentato da Arcelor Mittal annunciano 3.300 esuberi e il rinvio della riaccensione di Afo 5, l'alto forno più grande dell'ex-ILVA. Le organizzazioni di categoria per domani hanno convocato un consiglio di fabbrica straordinario. Il ministro dello sviluppo economico martedì riunisce in videoconferenza sindacati e commissari senza Arcelor. Patuanelli ha parlato chiaro se Arcelor vuole andarsene e se ne vada ci sono penali e clausole che glielo consentono e aggiunge Il nostro obiettivo, dice, è coniugare ambiente e lavoro a Taranto con un impianto moderno, nuovo, all'avanguardia che diventi un fiore all'occhiello per l'Europa. È proprio il vicepresidente della Commissione Europea, Franz Timmermans, sulle colonne del Corriere a ricordare all'Italia che potrà utilizzare i fondi dell'Unione per l'Acciaieria di Taranto. La nuova sfida è l'acciaio verde prodotto con l'idrogeno. Sono proprio le acciaierie in generale le maggiori responsabili delle emissioni di biossido di carbonio nell'aria. Se Taranto riesce a rinunciare al carbone, dice Timmermans, può richiedere un contributo per il Green Deal, il piano che mira a rendere sostenibile l'economia europea. I fondi sono passati da 7,5 a 40 miliardi. E adesso facciamo il punto della pandemia nel resto del mondo. I casi di coronavirus nel mondo non sono mai aumentati a ritmo così sostenuto come adesso. L'emittente americana CNN ha analizzato i dati pubblicati dalla Johns Hopkins University che segue costantemente l'andamento della pandemia basandosi sui dati forniti dai singoli paesi. Da questa analisi emerge che se da una parte i tassi di contagio stanno visibilmente rallentando nei paesi che all'inizio sono stati più colpiti, vedi l'Italia, ma anche la Spagna, la Francia e la stessa Cina, dall'altra non solo. Come è evidente, i focolai si sono spostati in altre zone del mondo, continente americano in testa, ma, sottolinea la CNN, in particolare in Sud America, Medio Oriente e Africa, la diffusione del virus sta accelerando. Se nel mese di aprile i nuovi casi giornalieri a livello globale non avevano mai superato le 100.000 unità, questo è avvenuto invece in nove degli ultimi dieci giorni. Non solo, quella soglia è stata addirittura oltrepassata mercoledì scorso. Ci sono stati 130.400 contagi in 24 ore. Dunque aumentano le dimensioni globali della pandemia di primato in primato. 400.000 morti nel mondo e quasi 7 milioni contagi. Al primo posto ci sono sempre gli Stati Uniti, con 1.900.000 casi accertati. E poi Brasile, Russia, Regno Unito e India. Quest'ultima è balzata al quinto posto dopo un picco di quasi 10.000 infezioni confermate in un solo giorno. Il Brasile intanto ha smesso di ricordare ogni giorno i dati complessivi dei casi e dei decessi, limitandosi a fornire solo i bilanci giornalieri. L'ennesima mossa di Bolsonaro che ha suscitato una dura reazione da parte delle autorità sanitarie locali. Il Consiglio Nazionale dei Ministri della Salute, l'organizzazione che riunisce queste autorità regionali, denuncia il tentativo autoritario, insensibile, disumano e antietico di rendere invisibili i morti di Covid-19, 204 nelle ultime 24 ore, da parte di Bolsonaro, il quale è anche minacciato come Trump di uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altro tema in primo piano, la morte di George Floyd, non soltanto negli Stati Uniti, ma anche per esempio in Italia, questa mattina a Roma, nel pomeriggio a Milano, negli altri giorni anche a Bologna e Firenze, e poi nelle altre capitali di Europa si sono tenute le manifestazioni contro il razzismo e contro la violenza. Nel nome appunto di George Floyd, l'afroamericano di 46 anni, è rimasto ucciso durante un arresto, è stato morto per soffocamento. Ieri c'è stata a Washington la manifestazione più imponente. Cominciamo da qui e poi vediamo le manifestazioni in Italia. Non è stato il milione di persone che si aspettavano gli organizzatori, ma c'erano decine di migliaia di persone ieri a Washington per una grande marcia pacifica. Il motto è sempre quel Black Lives Matter in onore di George Floyd, contro il razzismo, contro le brutalità della polizia, perché tutte le vite contano allo stesso modo. Ma non c'è stata solo Washington, tutta l'America è scesa per le strade, New York, Chicago, San Francisco, questo è il Golden Gate Bridge, da costa a costa, e mentre là fuori si manifestava, il presidente Trump si blindava dentro una casa bianca sempre più lontana dai cittadini. Questo video della CNN mostra come il cordone di sicurezza in una settimana abbia ampliato sempre più il perimetro e isolato sempre più il comandante in capo dagli americani. Fonti interne all'amministrazione sostengono che avesse chiesto anche la presenza di 10.000 soldati, richiesta negata dal Pentagono, che proprio la scorsa settimana aveva condannato l'uso dell'esercito, un'arma che va usata solo in casi estremi, e questo non è certamente il caso, aveva detto il segretario alla difesa, Mark Esper. E non è l'unico a esprimere la distanza da Trump, sembra che parte del suo establishment non voterà per lui. Il generale Mattis, ex capo del Pentagono, ha usato parole di fuoco contro l'attuale presidente, così come anche George W. Bush, l'ex senatore Romney, che si candidò contro Obama, la vedova di John McCain, un noto falco repubblicano, sembra che daranno il loro voto a Joe Biden il prossimo 4 novembre. Trump però tira dritto le uniche parole che si limita a twittare, a commento di queste giornate di mobilitazione, sono ordine e legge. Commenta anche il numero dei partecipanti, molto inferiore alle aspettative, ma l'onda lunga delle proteste ha attraversato gli oceani, manifestazioni sono in corso da ieri, dal Giappone, la Corea del Sud, l'Australia fino all'Europa. La marea umana è sempre quella, ci si inginocchia in omaggio a Floyd, e il motto da una parte all'altra del mondo è sempre «No justice, no peace, non c'è pace, senza giustizia». Ieri Londra, Varsavia, Vienna, Parigi, oggi la Spagna e Roma. «I can't breathe, non riesco a respirare». Sono centinaia i cartelli come questo, esposti dai manifestanti nelle piazze di tutta Italia, migliaia di persone scese in strada a Roma, Napoli, Milano, Bologna, Torino, Firenze, per protestare contro l'uccisione di George Floyd, morto lo scorso 25 maggio a Minneapolis. L'ultima manifestazione in ordine di tempo è quella di questa mattina a Roma, tanti giovani che hanno riempito Piazza del Popolo dopo la chiamata di diverse organizzazioni riunite per dire no al razzismo. Anche in Italia esistono problemi di integrazione razziale e di abusi di potere, dicono gli organizzatori, in uno dei tanti applauditi interventi prima di un lungo silenzio durato oltre otto minuti e mezzo in cui tutta la piazza si è inginocchiata alzando il pugno nel gesto che è diventato insieme commemorazione e protesta. In ginocchio davanti al consolato americano sono rimasti a lungo anche i manifestanti di Firenze, uomini e donne che hanno partecipato alla protesta che si è svolta nella serata di ieri. Circa un migliaio di persone che in maniera pacifica escortate dalle forze dell'ordine si sono poi spostate in piazza Santa Croce. Manifestazioni analoghe si sono svolte anche a Bologna, a Napoli, Torino e in diverse piazze della Lombardia. Questo pomeriggio a Milano l'appuntamento è fissato a piazza Duca d'Aosta di fronte alla stazione centrale. Il razzismo non fa respirare lo slogan che unirà alcune associazioni che scenderanno in strada per ricordare l'afroamericano morto negli Stati Uniti. Gli sviluppi della situazione in Libia si gioca a Sirte, 450 chilometri da Tripoli. Il futuro della Libia, le forze del governo di Al-Sarraj hanno respinto la proposta egiziana di un cessato il fuoco. E qui, nel luogo più simbolico del paese, Sirte, dove è nato e morto Muammar Gheddafi, che si gioca in queste ore il destino della Libia. Perché proprio in questa cittadina, snodo cruciale tra Tripolitania e Cirenaica, che si sta combattendo la battaglia che potrebbe diventare finale. Le truppe del governo nazionale di Al-Sarraj, in piena controoffensiva, grazie al sostegno della Turchia di Erdogan, sono arrivate in forze e stanno attaccando Sirte su tre fronti, con un solo obiettivo, dare il colpo definitivo ai combattenti della Cirenaica, guidati dal generale Haftar, che fino a qualche mese fa sognava di conquistare Tripoli e diventare il nuovo reiss della Libia. E che le truppe di Asterraj si sentano ora forti e vicine alla meta, lo dimostra quanto è avvenuto stamattina. Le forze del governo di accordo nazionale hanno rifiutato la proposta del presidente egiziano al-Sisi, alleato del generale Haftar, di un cessate il fuoco a favore di un'iniziativa politica. Stanno guadagnando terreno e non vogliono fermarsi proprio ora. Non abbiamo iniziato noi questa guerra, ha spiegato infatti il portavoce dell'esercito di Tripoli, ma ora vediamo data il luogo della sua fine. Haftar e i suoi uomini infatti non solo hanno perso tutto il territorio conquistato dall'inizio dell'offensiva, nell'aprile del 2019, ma ora sono in difficoltà anche a Sirte, che controllavano dal 2016. Dunque rifiutare l'iniziativa diplomatica dell'Egitto permetterà agevolmente al governo di Asserrage di sedersi al tavolo delle trattative in una posizione di maggiore forza. Perché è evidente che sarà necessario un dialogo e una conferenza nazionale per decidere il futuro della Libia, un paese che dalla morte di Gheddafi di fatto non esiste più, frammentato in almeno tre grandi regioni, Cirenaica, Tripolitania e Fezzan, per tacere delle tantissime zone controllate dai capi tribù locali. Ma che è anche al centro degli interessi locali per le sue infinite ricchezze territoriali. Petrolio in primis, naturalmente, ma anche e soprattutto il controllo delle aree marittime del Mediterraneo, arma fondamentale nella guerra geopolitica della regione. Adesso c'è lo sport, il calcio. Queste sono ore decisive per il campionato, perché domani il Consiglio federale dovrà varare i piani di riserva in caso di una nuova sospensione del campionato di calcio di Serie A, che ricordiamo riprenderà il prossimo 20 giugno. È il motore del sistema, eppure nel governo del calcio italiano la Lega di Serie A ha meno potere dei dilettanti. Un tale paradosso sarà evidente domani a mezzogiorno, orario di inizio di un Consiglio federale che si preannuncia infuocato. Bisogna decidere cosa fare nella malaugurata ipotesi che il campionato dovesse fermarsi definitivamente senza verdetti già matematici. I tre rappresentanti dei club, Dalpino, Marotta e Lotito, difenderanno la delibera approvata dalla grande maggioranza dei presidenti, che nell'ultima assemblea ha votato per la non assegnazione dello scudetto e per il blocco delle retrocessioni. Con appena tre voti a disposizione su 21, però, sarà impossibile far passare un simile piano B, che comporterebbe anche il congelamento del discusso algoritmo tanto caro al presidente federale Gravina. La Serie A avrà dunque bisogno di trovare alleati, pescando nelle altre leghe. Da escludere l'appoggio della Serie B, che sentendosi minacciata dal blocco delle retrocessioni, medita azioni di protesta clamorose. Dalla possibilità di non scendere in campo all'ipotesi di un'azione legale collettiva contro i club del massimo campionato. Il più furioso è il Benevento, che rischia di rimanere tra i cadetti, nonostante i 20 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Domani la resa dei conti e mentre da noi si litiga, Infantino, presidente della Federazione Mondiale, promette un piano Marshall di sostegno finanziario al calcio in crisi, aggiungendo che sta lavorando anche per riportare appena possibile i tifosi negli stadi. Sempre desolatamente vuoti quelli tedeschi. La Bundesliga va avanti e da più parti sono arrivati gesti di solidarietà alle proteste antirazziste di questi giorni, seguite all'uccisione a Minneapolis di George Floyd. Qui siamo a Dortmund, dove prima del fischio d'inizio le squadre di Borussia ed Erta Berlino si sono inginocchiate a centrocampo. Fascia nera al braccio, invece, per i giocatori del Bayern Monaco. Con il messaggio del movimento, le vite dei neri contano. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, torniamo subito dopo con aggiornamenti. C'è un aggiornamento importante che riguarda la vicenda di Arcelor Mittal. Eccoci di nuovo in diretta. Dunque, vi dicevamo che si apre una settimana cruciale per le sorti dell'ex ILVA. Poco fa i sindacati e i confederali metalmeccanici di Cigelle, Cisle e Wille hanno proclamato uno sciopero generale per il 9 di giugno, quindi martedì, in concomitanza con l'incontro tra le segreterie nazionali e il ministro dello sviluppo economico, Pato Anelli. I sindacati ritengono inaccettabili il piano industriale che è stato presentato da Arcelor Mittal al governo il 5 giugno. Non ancora è stato ufficializzato alle organizzazioni sindacali e contiene, secondo i sindacati, esuberi all'interno dei vari siti. Dunque, sciopero generale il 9 di giugno. È tutto, grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento è con l'informazione alle 20. Arrivederci e buona domenica.